Shadow Cop Uccidi i bersagli per rischierarli prima Bene, marca un punto di lancio per la squadra Marco il punto, armi pronte Soldato nemico in arrivo Ma perchè non mi ha... E' così Sticcava le armi questo qua Come si fare... Compagno tornato in campo Ben fatto Non mi sono accorto Uavvio stile attivo Nemico in arrivo nell'area Uavvio stile in servono L'obiettivo è eliminare tutti i bersagli Movimento in quest'area Come, madonna, che cazzo... Cosa ti ho sparato? Come un peccato Una terra Regà, come inche faccio a saire? Due a terra, regà No, 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 mi sparo No, non ha colpi No, ma... Porco Dove stanno? L'altra parte del tetto Due l'ho montato a terra Che cazzo E' un po' di 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 E' uno po' di Ed è quello di prima ragazzi E' quello di prima E' un po' di Ucanon di di merda Buona caccia Ritorno in campo Forza, vendicati Porco dio bombardamento di merda No, noi non siamo mai trovati Ma che sarà figata a due Che arma di merda 5 secondi Cioè madonna zio dai Ma ti scopano dal tetto Sta arrivando un nemico Attenzione in alto Ecco poco Oddio prendetele qui e ben andate Buon cazzo Sai che mo ti tene una cicchinata Dai attacco col mortaio C'è una falla nella rete nemica Trovate le loro stazioni a blink e recuperate le informazioni prima che vadano offline Ragazzi sono circondato Non ho piastre Non ho niente C'è attività nemica Nemico in arrivo nell'area L'hanno distrutto ragazzi Nemico distrutto I suoi amici I suoi amici sono marcati sulla mappa tattica Dove carnesso Un movimento in cui Annullare Dove cazzo vai Non ha colpi Ah no La fa qualcosa un po' No Forno ragazzi Buon è sempre stondata madonna Compagno tornato in campo Ben fatto sali sali ma che fada ragazzi sono otto il cazzo ragazzi sto giocando sto giocando ragazzi bisogna essere forte bisogna essere forti in questo gioco c'è poco da fare mi sta numerando sulla collina carlos carlos sulla collina per la nostra testa porca madonna massero il cancro rinunciato one shot no no sali attivi mi sparano addosso non morire qui vabbè ragazzi il gas è sempre più vicino sono ancora a 10 team avete raggiunto la zona sicura i rinforzi sono in arrivo sono da sol vamos saldi terminati prezzi tornati alla normalità si 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 vabbè tanto le gas si risponde non Vado. 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 Vado.